Non so perché l'ho fatto, ho preso i fiammiferi e ho dato fuoco. È la missione resa agli investigatori dal presunto autore del devastante incendio di Ferragosto, arrestato dai carabinieri della stazione di Vico e Quenze, in esecuzione di un decreto di fermo emesso alla procura di Torre Annunziata. Si tratta di un sessantenne di Vico e Quenze, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di aver causato un incendio boschivo esteso con danni persistenti all'ambiente. Per domare le fiamme, due Canadair, due elicotteri e squadre dei Vigili del Fuoco a terra hanno lavorato incessantemente il 15 e 16 agosto, soprattutto per impedire che le fiamme potessero propagarsi alle aree residenziali della località Faito. Il fermato, identificato sin dalle prime ore, in un primo momento ha negato le responsabilità fornendo un alibi, ma grazie all'accurata ricostruzione dei carabinieri, svolta attraverso testimonianze e immagini del sistema di videosorveglianza comunale, il presunto autore ha poi ammesso di essere irresponsabile dei fatti. In pratica il sessantenne, all'alba della mattina di ferragusto, avrebbe raggiunto la località Conca del Monte Faito e avrebbe incendiato il bosco. La sera del 15 agosto, interrogato dai PM della procura Oplontina, il sessantenne ha confermato la sua versione dei fatti. Così, grazie agli esiti investigativi che hanno indotto l'uomo alla parziale ammissione dei fatti, è stato emesso il decreto di fermo. I danni causati dalle fiamme sono stati devastanti per l'ambiente e il turismo, con una colonna di fumo visibile da tutto il golfo di Napoli, che la mattina del ferragusto ha coperto la penisola sorrentina. Momenti di panico anche per i turisti già presenti sul monte.